buongiorno buongiorno a tutti gli amici di tv la rizza siderno come vedete siamo dal nostro carissimo amico alfredo amori che come vedete eccolo qua è sempre in opera all'opera ciao freddo siamo venuti qua al mercato siamo venuti qua al mercato sempre sei il numero uno sei il nostro sponsor ufficiale di tv la rizza siderno ora noi riprendiamo che belli polli ragazzi guardate che belle polli belle ho assaggiato più ogni giovedì vengo a comprare il pollo qui buonissimo come il pollo ho voluto a comprare anche carne fresca guardate qua vi mostro tutto il banco adesso tutto pollo tutto pollo casareccio fresco di giornata cotolette spiedini tutto quello che vedete qua è tutto in produzione propria venite solo a provare ogni giovedì venite qua guardate le salcicce tutto di produzione propria venite qua assaggiare guardate queste salcicce guarda fatte dopo dal freddo fatte tutte dal freddo guardate che che bontà ragazzi guardate che bontà guardate guardate con i vostri occhi venite solo a comprare e a soporare io non capisco niente di carne io capisco solo quando è buona e cotta in padella la freddo cosa ci riparte la tua carne oggi abbiamo scottona carne alta qualità la trovi solo da noi da freddo amori ogni giovedì al mercato di siderno grazie provate per vivere provare per credere ecco qua vi mostro anche mi allontano ecco vi mostro anche il vostro in mezzo ecco qua da siderno tv la rizza e siderno da freddo amori una buona giornata